L'Agenzia Funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. Il governo Meloni tradisce il Sud. Aveva fatto pubblicare la regione Campania in diverse città del territorio per disposizione del presidente Vincenzo De Luca, che puntava il dito contro l'esecutivo per alcune scelte, tra cui quella di destinare non oltre una certa quantità di fondi sviluppo e coesione all'ente e ad altre regioni meridionali per aiutare il comparto sanitario e il pronto soccorso. In questi giorni a Napoli sono comparsi stavolta dei manifesti fatti pubblicare dal coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia, il partito di cui il capo del governo Giorgia Meloni è espressione. Fratelli d'Italia rinfaccia a De Luca di avere utilizzato fondi pubblici per la propria campagna contro il governo in carica, no all'uso strumentale delle istituzioni. Come si legge sui canali ufficiali di Fratelli d'Italia Napoli, la sezione cittadina coordinata da Marco Nonno ha bollato De Luca come bugiardo, in quanto il governo avrebbe comunque stanziato un miliardo di euro per la sanità e, secondo il coordinamento, De Luca stesso avrebbe causato la chiusura di pronto soccorso e ospedali in Campania. Tutto sta a come vengono investite e spese le risorse. Chiediamo con forza all'autorità giudiziaria il sequestro probatorio degli atti deliberativi che hanno disposto la stampa e l'affissione dei cartelloni e il sequestro preventivo delle affissioni, dichiarano da Fratelli d'Italia Napoli. Potrà a questo punto esserci anche una controreplica del governatore, dopo la risposta data dal coordinamento cittadino napoletano di Fratelli d'Italia alla stessa maniera con cui la regione aveva contestato i ritardi nell'assegnazione dei fondi? Staremo a vedere. Di certo la sua campagna per il sud e per la campagna.